Ciao ragazzi, adesso siamo arrivati a Roma, due giorni fa eravamo a Napoli e dopo domani siamo a Firenze. Ciao. Nomi? Andrea. Ciana. Ok, adesso andiamo a prendere la fra che no, non è vero, è lei che deve venire a prendere noi. Adesso siamo alla stazione di Termini, molto bella. Adesso siamo a Piazza del Popolo e cos'è che... Quanta figa! Vabbè, non deludono le mie aspettative. Ah, ciao. Ciao. Guarda che piazza del Popolo. Questo è Piazza del Popolo. E mo cosa facciamo? Andiamo a bere perché io sto morendo. Dai, inquadra. Siamo davanti alla chiesa famosa. Non è Milano. Milano Polo. No. Simile. Quella in cui c'era il Raduno degli Emo. Non è? È questo? Sì, stavamo parlando prima. E quello in cui si dice... Ciao. No, 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 no. Guarda loro. Sono semi Brudel. Sono semi Brudel. Sono un quarto di Brudel. Ciao. Stai facendo un video? Cos'è? Stai facendo un video? No. Bravo! Siria? Bravo, stai facendo un video? Bravo! Ciao! Queste eccitazioni squallide. Com'è la videocamera? È una videocamera. Fra se ne va. Ciao. E noi dove andiamo? Pariolino. E dove inquadrarti? E noi andiamo a Spagna. Vai, fermo. E dove è Spagna? Stai qui dietro. Ok. Va bene. Va bene. Sì, se ne va anche Sciana. Ha lasciato anche lì la rosa, come ricordo. Sì. Ho anche fatto una foto. No, no, no. Che cazzo hanno tutti da guardare? Ciao Johnny. Ciao, grazie per essere venuta. Che carini. Quando vuoi scrivimi su Twitter. No, su Twitter non ce l'ho. Non ce l'ho. su Whatsapp, Stambler, su Facebook. Oh! Oh, stai calmo. Su Youtube. Va bene. Quando vuoi parlare io ci sono. Ti sentiamo. Ciao, grazie. Adesso sono arrivato in casa. Gli altri se ne sono andati. Il raduno di oggi è finito. E niente, è stato divertente. Io mi sono divertito, anche se eravamo un po' pochi. Sono davvero distrutto. Guardate, questo è il mio appartamento. Un po' di roba così a caso. E domani andiamo ancora a incontrarci con Fra e con Andrea che facciamo il giro turistico della città. Dovevo svegliarmi alle 8. Merda! Ciao ragazzi. Adesso siamo arrivati al Colosseo. Siamo al Colosseo. Da qui dove andiamo? Boh, facciamo un giro intorno. Ma quanta gente c'è? Tanta. Tantissima. Guarda qui. Ma stanno facendo dei laurelli. Dove? Qui. Qui. Ah, qua. Ce li avevo anche davanti. Vabbè. Ostia. Ma mi sono preso un mortaccio tuo. Allora, una bossa alla Raffae. Lo sta facendo. Sì, sì. E adesso siamo davanti al Colosseo. C'è troppo troppa gente. C'è tantissima gente. Tantissima. Peggio che andare a Gardaland. No. Qui fanno gli abbracci a pagamento. A pagamento? Sì, un euro. Perché a pagamento? Altro che abbracci gratis. Adesso ci sono gli abbracci a pagamento. Ma sono seri? Sì, a Roma costa tutto di più. E adesso siamo a Piazza San Pietro. Abbiamo appena mangiato. Abbiamo appena mangiato in un posto fighissimo. Questo ragazzo di Roma non è mai stato a San Pietro. E' enorme. Metti la mano in alto. Aiuto. Aspetta, c'è un punto in cui se ti metti... Forse quello lì. Quale? In cui se ti metti su quel punto lì in teoria dovresti vedere. Le colonne allineate. Tutte. Forse è questo. Sì, 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 sì. Sostizio in Capricorno 22 dicembre. E' questo. No, forse no. Ostia, non mi ricordo. Sono le due? 45. Allora non lo so. Questo qui, centro del colonne allineate. Infatti, sono tutte le colonne allineate. E poi sembra che ce n'è stato l'uno. E ce n'è uno anche di tanto. E ce n'è uno anche di tanto. Che caldo c'è? Tanto caldo. Tanto caldo. Non mi raccomando lì, oltre a fare. Contanella, fermo. E' bellissimo. Questo è il Castell Sant'Angelo. Ti voglio entrare. E questo è il Tevere. no che figata, è tutto scorso, c'è caldissimo, si un po' si, guarda bellissima, no un quadro alzato, anche questa qui, sono belle, molto, molto, sembra monumentale, è gigantesco, il bello, in queste telecattere qua, mi fa sembrare tutto molto più bello di com'è in realtà, una volta, una volta, sono, occhio a non esagerare quello di me, lungo Tevere è proprio pulitissimo, no, vabbè, ho visto di peggio io, un indice, molto, molto, un po' di più, un po' di più, un po' di più, andiamo a salutare i nostri, cosa, qua c'è una fontana, bellissima, sai che c'è? Mia amica, va bene, ora, ci stiamo per salutare, lui a Johnny e lui non mi ricordo, loro dei miei amici, Danny, no, 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 va su YouTube, salutate, saluta su YouTube, saluta tua mamma, no, ti prego, no, ti prego, no, ti prego, no, ti prego, Danny, ciao mamma, che? Va veramente su YouTube? Sì, probabilmente, no, non l'ho mandato, tagliami a me, basta che mi tagliami a me, tagliami a me, tagliati i peli, ma che? Pezza del popolo, Burger King, momento triste, sei un po' preso male, un po'? Ho dormito pochissimo, ho dormito pochissimo anche, altre persone carine lì in fondo, mamma, mi sapevo che tu no, questo sei da fuori verdi, perché tu sei da qui, sì, Kat, va su YouTube, saluta, no, no, Anna, spegni quella cosa, veramente, ciao, prendi la te, scensura, 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 dai, andiamo, andiamo, tu prendi la mezza, vabbè, la mano non c'è, ultimi saluti, tu dove devi andare? grande oh 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 eh 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 oh no Gli ultimi momenti a Roma E poi parto domani però vabbè Gli ultimi momenti Chissà quando ci rivedremo Dai Magari torno Grazie Grazie di tutto Ci sentiamo Ciao 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 Ciao